Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. La mosca domestica è un insetto molto comune nelle abitazioni umane e in molti altri ambienti frequentati dall'uomo. Questo insetto, noto per la sua capacità di volare e di posarsi su vari tipi di superfici, è spesso associato a condizioni igieniche scarse e alla trasmissione di malattie a causa della sua predilezione per sostanze organiche in decomposizione. Le mosche domestiche misurano generalmente tra i 7 e i 9 mm di lunghezza e hanno un peso di circa 7 mg. La loro aspettativa di vita si aggira intorno ai 28 giorni, durante i quali possono attraversare diverse fasi di sviluppo, da uova a larve, poi a pupa e infine a insetto adulto. Questi insetti sono caratterizzati da un corpo nero o grigio scuro, con le tipiche strisce sul torace e gli occhi composti che possono percepire movimenti rapidi. La mosca domestica ha un regime alimentare vario che include sostanze come padlina, escrementi, nettare e altri materiali organici in decomposizione. Questo insetto utilizza il suo apparato boccale di tipo lambente succhiante per nutrirsi, il che lo rende un eccellente diffusore di agenti patogeni. Nella catena alimentare, le mosche domestiche sono predate da una varietà di animali, inclusi uccelli, ragni e insetti predatori come le vespe. Le mosche domestiche sono onnipresenti in quasi tutti gli ambienti umani, comprese le case, le stalle e i parchi. Si adattano facilmente a vari ambienti, preferendo quelli in cui possono trovare facilmente cibo e luoghi per la deposizione delle uova. La loro presenza è globale, essendo capaci di vivere in quasi tutte le zone climatiche, da quelle temperate a quelle tropicali. di tipo di lavoro. La loro presenza è globale, essendo capaci di vivere un po' di forma, la loro presenza è globale, essendo capaci di vivere un po' di scrittura. La loro presenza è globale, essendo capaci di vivere in quasi cultura, gli ambienti umani, oiini, oi i proiello, essendo capaci di vivere un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti.